E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterset Crypto, io sono Emiliano e anche questa mattina andiamo insieme a fare il nostro consueto Morning with Crypto dove andiamo ad analizzare quelle che sono le news di mercato, quelle che sono i principali gainers, losers di CoinMarketCap e poi gli sguardi alle chart per vedere un po' come si è conclusa la serata, quello che è il movimento della notte, insomma tante tante cose da approfondire assieme ma come sempre prima di partire il mio ambito è uno, quello di lasciare un bel mi piace Qualora questi contenuti fossero di vostro gradimento davvero vi ringrazio sempre del supporto, per me non è assolutamente scontato, ieri ve l'ho anche iscritto su Twitter, abbiamo raggiunto i 15.000 su YouTube, è veramente un risultato incredibile e fino a 10 mesi fa per me arrivare a 1000 era un'utopia, ok era una cosa incredibile, oggi siamo a un 15 per quindi davvero davvero grazie a tutti Date un'occhiata anche il link che trovate qui sotto in descrizione che appunto sono servizi che sto utilizzando io in prima battuta quindi per il momento mi trovo molto bene Partiamo, partiamo subito perché abbiamo un paio di news abbastanza corpose di cui parlare, allora la prima è una news che in realtà è solo per farvi capire che arriveremo a sabato a integrare un aggiornamento importante per il protocollo Bitcoin ovvero Taproot è un upgrade della chain, è un upgrade che si era diciamo ci si aspettava da tanto, siamo pronti insomma ad integrarlo da sabato, non mi ricordo più in che blocco Sì comunque il 14 novembre circa alle 1 UTC quindi fatti i conti però sì il discorso non è tanto quello, è più capire a cosa serve Ebbene, Taproot è un upgrade che tenderà a rendere Bitcoin più scalabile ma non tanto dal punto di vista della sua blockchain ma più dal punto di vista della sua integrazione di capacità di scripting Ok? Di portare un po' Bitcoin a quello che è non dico Ethereum ma comunque nella capacità di Bitcoin di sviluppare sulla sua chain Ok? Questo lo farà e lo renderà anche meno expensive quindi meno costoso e le sue transazioni dovrebbero essere un po' più veloci Questo è un aggiornamento davvero interessante, può portare tanto alla rete Bitcoin e soprattutto aumenta anche il discorso della sua programmabilità quindi l'integrazione di questi, non dico smart contract ma la possibilità di renderla maggiormente adatta Ok? E anche un discorso di privacy sono stato veramente ultra grandi linee perché sicuramente potremmo fare veramente ore a parlare di tutto ciò però mi interessava più farvi capire quello che è il discorso di questo aggiornamento che è un aggiornamento importante Se andate su questo sito qui, taproot.watch potete vedere appunto la situazione stimata per quanto riguarda l'aggiornamento di taproot insomma per capire a che punto siamo nell'integrazione quindi vi consiglio di farlo da qua in modo tale che non abbiate dubbi su quanti blocchi rimangono o meno Ok? L'ultimo upgrade appunto, uno degli upgrade importanti che c'era stato era stato appunto Segwit che era stato un upgrade importante per andare anche lì ad abbattere veramente di tanto le fee Passiamo a Solana perché uno dei cofondatori di Solana ha parlato di Ethereum e mi trova estremamente d'accordo con veramente mi trovo nella stessa visione ed è quello che io sostengo da tantissimo e quindi ci tengo a condividerlo con voi Praticamente lui un po' si scavola tra virgolette a continuare a pensare Solana ma così come tantissime altre chain come gli Ethereum Killer E lui giustamente va ad evidenziare come non ci sia bisogno di nessun killer, ok? Ma che appunto non è importante dire chi è killer di chi ma appunto loro stanno lavorando per portare on board, ok? Cioè a bordo di questi progetti, far conoscere la blockchain e far conoscere la tecnologia che sta dietro ogni umano nel web 3.0 Quindi cercare di portare più gente possibile e lo fa benissimo secondo me nel suo tweet, ok? Doveva proprio a parlarne, ok? Dice che appunto essere, insomma, che non è necessario, ok? Provare a uccidere Ethereum perché Ethereum non può essere ucciso, è impossibile E che comunque Ethereum è comunque una forza molto bella nel mondo e ha aiutato, ed è vero, tantissime persone a creare billions, ok? In ricchezza e Bitcoin anche lui nello stesso modo E quindi fondamentalmente lui si dispiace di tutto questo flame, ok? Che si va a creare sempre, io sono killer di qualcuno E perché appunto è vero ragazzi, cioè, nel senso, abbiamo veramente pochi progetti validi Se quelli lì si vanno a fare la guerra tra di loro, ah ma io devo uccidere te, tu devi uccidere me Capite che non si va molto lontano, serve uno spirito di cooperazione, serve uno spirito di adozione Cioè si naviga tutti nella stessa barca e nella stessa direzione Quindi a questo momento con la capitalizzazione di Ethereum Con quello che veramente Ethereum rappresenta anche in termini di valore E di, anche diciamo, decentralizzazione di Ethereum Che è molto molto avanzata rispetto ad altre chain È inutile pensare, lo devo uccidere, ok? Quindi questa è una cosa interessante e volevo approfondirla con voi Per quanto riguarda invece i gainers delle 24 ore Troviamo Decentraland, eh sì, Decentraland, scusate Tra i dollari, bel recupero anche per lui Mina, un più 21, che fa un più 43 settimanale Algorand, più 14 The Sandbox, un bel rimbalzo Un più 12, rimane in settimana negativa però Era importante dare un segnale I cash, un più 10 Horizon, più 9 Near, Cadena Più 7, continua Anche lui a crescere Anche Crypto.com, continua Insomma, ne abbiamo parecchie Parecchie nelle ultime 24 ore In realtà abbiamo anche qualche losers da segnalare Tra cui Yotex Ma ha fatto un pump molto importante la giornata di ieri Questi movimenti ormai li sappiamo OMG Ha fatto un meno 20 Ho notato anche su Twitter Che se ne discuteva in merito Non ho molte notizie Bisognerebbe approfondire un attimo Cosa sia successo Loopring, un meno 13 Ma guardate la settimana Inutile di scuterne Riven, un meno 7 Unusedleo, un meno 6 Solana Anche essa correge Però, ragazzi, davvero guardate Niente di che Insomma, se togliamo I primi 2-3 Ma di cui il terzo è super gain Non è successo praticamente nulla In realtà anche su Bitcoin Non è successo nulla Lo vedete bene Come la chiusura di ieri È stata una chiusura Estremamente piatta Come action Anche se in realtà La candela ha fatto un massimo A 65,6 E un minimo A 64,100 Quindi comunque Un minimo di volatilità c'è stata Uguale vale per la candela di oggi Per come è aperta Non Non è Una candela Super bearish Ok In ogni caso Stiamo andando a comprare bene I 64,5 Questa zona qua Ok Lo vedete Stiamo andando a ritrovare sempre appoggio Sulla 12 Più o meno Ok Lo vedete 12 sta alzando E dobbiamo andare a prenderla come riferimento Stiamo a contatto Col precedente Oltai mai Ok Quindi anche questa zona qua Dei 64,9 64,8 Insomma Quella Del precedente Oltai mai Fatto a Giugno Aprile Maggio Insomma Quelle zone lì Tendenzialmente Il prezzo sta tendendo Un pochino Sta un po' Raffreddando Vedremo Se ci sarà un'ulteriore correzione Però per il momento Stiamo andando sideways Ed era un discorso di cui Avevamo parlato Anche una potenziale di contatto Con questa trend line Ma che può anche essere bucata E recuperata ragazzi Cioè Ricordatevi Non è che per forza Dobbiamo fare questo E poi via Moon Cioè Quindi Questo Somma per essere chiari Però Però I 64 Ci possono stare Il discorso è non andare sotto Certe soglie Cioè non andare sotto A mio parere Qui I 60 I 61 Perché Bucare qui Vorrebbe dire Invertire Una struttura E creare una sorta di Top Ok Temporaneo Quindi quello è Ciò che dobbiamo cercare Di escludere Anche se approfondiremo Tutto questa sera Per quanto riguarda Dominance Lateralizzazione Vediamo se avrà potenza Per scendere ancora Ma per me È più lateralizzazione E Total Che comunque si mantiene Tutto sommato positivo In uptrend Quindi Anche qua Non c'è Particolare agitazione Sulla Total Anzi direi che Si sta abbastanza Tranquilli Ragazzi Non voglio andare oltre Perché poi Questa sera Parliamo di analisi tecnica Insomma dei mercati Come sempre Quando questi contenuti Fossero stati di vostro aiuto Di vostro gradimento Vi invito a lasciare un bel mi piace Iscrivervi al canale Con clic sulla campanellina Per rimanere sempre aggiornati Noi ci vediamo appunto Questa sera Con il nostro update Di analisi tecnica Ciao a tutti ragazzi